Camponamento sulla Abretella, muore un cinquantenne, la tragedia, la notte scorsa, l'altezza dello svincolo di Lucca Ovest a perdere la vita un uomo di 50 anni, di origini albanesi, ma da tempo residente in città. Una mostra sugli ebrei perseguitati in municipio a Capannori, l'esposizione realizzata dall'Associazione Bidone e della Civica Scuola di Musica. Lo sport, l'Hockey, il Cgc Biereggio, capitola l'Odi, bianconeri che escono sconfitti 8-3 dalla pista dell'Odi, brutto infortunio per Costa. Il calcio, la lucchese, grande gruppo, mister Galderisi elogia i suoi per la vittoria contro il Tutto Cuoio. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi. In primo piano la cronaca, la tragedia avvenuta ieri notte sulla Abretella, Lucca Viareggio, a perdere la vita un uomo di 50 anni che viaggiava su una Smart. Vediamo. Un uomo di 50 anni di nazionalità albanese ma residente a Lucca, Bruno Asanai, ha perso la vita sabato notte in un incidente stradale avvenuto sulla Abretella, Lucca Viareggio, all'altezza dello svincolo di Lucca Ovest. Secondo una prima ricostruzione al vaglio della Polizia stradale della sottosezione di Viareggio, l'uomo era la guida di una Smart e stava procedendo da Massarosa verso Lucca quando nei pressi dello svincolo ha perso il controllo della vettura. L'auto ha sbattuto contro il guardrail e poi si è intraversata. Pochi istanti dopo è sopraggiunto mezzo pesante che ha travolto la Smart. Asanai è morto sul colpo mentre una donna che era al suo fianco è rimasta ferita ma non in maniera grave, illeso l'uomo alla guida del camion. Sul posto, oltre ai mezzi allertati dal 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre l'uomo dalle lamiere. E ancora la cronaca, ci sono due notizie, un grave incidente domestico. Questa mattina in via dei Bocchi a Lammari una donna di 40 anni è caduta dal balcone di casa da un'altezza di circa 3 metri dopo aver perso l'equilibrio mentre stava facendo alcuni lavori sul terrazzo sopra uno scaleo. Vista la dinamica il 118 è intervenuto sul posto, ha allertato anche l'elisoccorso Pegaso, ma nonostante il suo atterraggio in zona la signora è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale San Luca con un forte trauma cranico non in pericolo di vita. E la notte scorsa polizie e carabinieri hanno sventato un rave party che alcuni giovani avevano organizzato a Colognora di compito nel Capannorese. Rimaniamo proprio a Capannori, ancora parliamo del giorno del ricordo, in municipio una mostra per non dimenticare. Vestiti, scarpe e occhiali usati, vecchi cappotti e vecchie valigie disposti in piazza Aldomoro e sulle scale del municipio di Capannori hanno accolto i cittadini e i visitatori della mostra Nel vento e nel ricordo, storie di bambini ebrei della Shoah in provincia di Lucca, realizzata in occasione del giorno della memoria. L'installazione è stata curata dall'associazione Bidone con la partecipazione della civica scuola di musica per evocare la tragica realtà dei campi di sterminio nazisti. La mostra, realizzata dall'Istituto Storico della Resistenza e dell'età contemporanea, è composta da una ventina di pannelli che raccontano le storie di bambini e bambini ebrei che nei terribili anni della guerra vissero il periodo della persecuzione sul nostro territorio, trovando alcuni la salvezza e altri l'arresto e la deportazione. Tra questi anche Edi Bueno, che nell'autunno del 43 si rifugiò con la famiglia Marlia in una casa presso Santa Caterina. Edi riuscì a salvarsi insieme al fratello Sirio e al padre Mario, mentre purtroppo non fu lo stesso per gli altri suoi cari. Alle scolaresche presenti ha raccontato la sua vicenda. Questi bambini che vengono ora dall'alimentare alle medie, che non si possono scordare quello che si è passato, si devono rammentare e non devono subire come si è subito noi ebrei. Quando sentono parlare è un ebreo e devono dire questi ragazzi sono persone come noi, anzi chi meglio e chi peggio, ma sono tanto buoni di cuore. Tutto questo e vogliamoci bene che non ce l'hanno mai voluta, noi ebrei. In attesa di domenica prossima il primo corso del Carnevale di Viareggio che vi trasmetteremo in diretta. Aria di Carnevale già nella piana di Lucca, oggi la prima giornata di festa del Carnevale porcarese, giunto quest'anno alla 38esima edizione. Manifestazione ad ingresso libero con il corteo dei carrele gorici che si snoda ogni domenica per le vie del paese da Piazza degli Alpini fino alla centrale Piazza Orsi. Vedete proprio le immagini di oggi, davvero quest'anno i maghi della carta pesta a lavoro da mesi si sono superati realizzando tanti carri dove i bambini possono salire. In Piazza Orsi non mancano poi il truccabimbo, i gonfiabili, lo spettacolo di Star Wars e tanta animazione e divertimento oltre ai banchetti con gli stand gastronomici. Il Carnevale è un evento organizzato dall'oratorio Anspil Campanile con il patrocinio del Comune di Porcari ed è in programma oltre a questa domenica, si ripete, il 12 e 19 febbraio. Andiamo a Petrasanta, trionfo bis della Contrada alla Marina alla festa della canzonetta e del teatro dialettale Petrasantino che si è chiuso ieri sera al teatro comunale dopo quattro serate sold out. A vincere sulle 12 canzoni in gara è stato Alessandro Buselli con il brano Pensieri di carta pesta per la Marina e la seconda vittoria consecutiva allo sprocco. Lo scorso anno sempre Buselli aveva vinto con Il sole dentro me. La scartocciata, la gara per lo sketch comico in dialetto è andata alla corte con la scenetta Tre Pistelli in un giorno. Rimaniamo a Petrasanta per parlare dell'ACI che ha inaugurato una nuova sede. È più vicina la nuova rotatoria sull'Aurelia in zona Madonnina alle porte di Petrasanta. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale al taglio del nastro della nuova sede dell'ACI. Da oggi l'Automobile Club è ospitato nel grande edificio ex Favilla di fronte al Terminal Bus. Spazi nuovissimi e più grandi, un concetto di accoglienza di soci e clienti moderno e funzionale per uno dei primi club ACI d'Italia per numero di associati. Petrasanta è una delegazione che ha oltre 1500 soci. Ricordiamo che l'Automobile Club Lucca addirittura a livello nazionale è il decimo Automobile Club d'Italia, proprio il numero di soci ACI che annoveriamo. Petrasanta rappresenta un record nel record perché addirittura l'84% di questi soci hanno deciso di rinnovare automaticamente la loro tessera. Consideriamo che la media nazionale è il 22%, siamo a 84% a Petrasanta e quindi i numeri parlano da soli. Noi stiamo continuando anche qui a Petrasanta una politica di rinnovo di tutti i locali. abbiamo tolto tutte le barriere che si sfrapponevano fra gli uffici e gli utenti, quindi abbiamo creato dei punti scrivania dove praticamente rinnoviamo il contatto personale con le persone che a noi è una cosa che ci interessa. È un percorso che abbiamo iniziato col rinnovamento della serie di Lucca, di Borgamozzano. Oggi inizia a Petrasanta e proseguiremo anche con le nuove sedi di Castelnuovo e di Barga. La nuova sede dell'ACI si inserisce in un contesto commerciale di portata notevole, cresciuto negli ultimi anni all'ingresso della città che spinge il Comune ad accelerare sulle infrastrutture e sulla viabilità. È importante che adesso l'amministrazione riesca a fare questa rotonda di cui si parla da 20 anni e che nessuno è mai riuscito a portare fino in fondo perché sarebbe una riqualificazione dell'ingresso cittadino. Era il 23 gennaio 1984 quando la misericordia di Borgamozzano inaugurò il centro di accoglienza anziani nell'ex convento di San Francesco. Ieri il 34esimo anniversario dell'apertura della struttura è stato celebrato con una giornata di festa. E ora Camporgiano per parlare dell'inaugurazione della nuova biblioteca comunale. Tanti studenti ma anche tanti genitori a Camporgiano per l'inaugurazione della nuova biblioteca comunale e di un'aula dedicata al disegno sia artistico che tecnico. Il sindaco Pifferi nel suo intervento ha ricordato come Camporgiano negli anni abbia sempre vissuto la giornata della memoria con molte iniziative. Poi il taglio del nastro alla presenza di autorità civili e militari. Bisogna ricominciare veramente dalle scuole. Camporgiano lo ha sempre fatto perché con questo intervento che mette a disposizione una nuova aula di lettura, una nuova biblioteca e una nuova aula artistica, Camporgiano sta completando un insieme di interventi di edilizia scolastica di oltre 4 milioni e 600 mila euro. Questo credo che sia la cosa più importante che si possa offrire a noi stessi e ai nostri figli. La scuola riveste un ruolo importante in questa parte di Garfagnana perché fornisce il servizio scolastico a quattro comuni, San Romano, Careggine, Vagli e appunto Camporgiano. Dopo il taglio del nastro è stato l'architetto Federico Fioravanti ad illustrare le nuove aule appena inaugurate. Poi gli studenti hanno salutato tutti gli intervenuti. Il comprensivo di Camporgiano è guidato dalla dirigente Patrizia Farsetti e dalla vice Annalisa Bravi e ospita quasi 400 studenti. Ancora oggi inauguriamo una nuova biblioteca, è un segnale importante quanto questa realtà tenga conto della cultura, dell'importanza della cultura, di cercare di non perdere mai la memoria. Come queste realtà, questi piccoli paesi, piccoli ma grandi, come cerchino di conservare e mantenere la loro identità, le loro tradizioni, quindi quell'aspetto e quella realtà culturale da trasmettere agli altri, alle giovani generazioni. Le farmacie Alto Pascio, società partecipata del Comune, ha donato un defibrillatore all'Accademy Tau di Badia Pozzeveri. La realtà calcistica da oggi dunque è più cardioprotetta, un obiettivo importante per garantire tranquillità e sicurezza, un luogo che accoglie ogni giorno molti ragazzi. Solo gli iscritti all'Accademy sono circa 170 impegnati in tornei e campionati giovanili. A proposito di sport, ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo insieme. La pagina sportiva, in primo piano l'hockey e il calcio. A fra poco.